Enrico Papi allontanato dall'Isola dei Famosi? Svelata tutta la verità L'Isola dei Famosi? L'opinionista verrà allontanato dagli autori? La verità In queste ultime ore la fanpage Instagram People Gossip ha rivelato di essere venuta a conoscenza che ci sarebbe della maretta tra Enrico Papi, Ilari Blasi e la produzione del reality show Il motivo? La goccia ad aver fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Papi ha cercato di strappare dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell'eliminato Per tale ragione la suddetta fanpage ha anche colto la palla al balzo per svelare che l'opinionista sarebbe vicino a lasciare la trasmissione dopo tutti questi dissidi, o potrebbe essere allontanato Su tutta questa faccenda ha voluto fare chiarezza il portale fanpage.it, che è venuto a sapere che Papi non rischierebbe affatto di perdere il posto nel reality Secondo quanto apprende fanpage.it un allontanamento di Papi sarebbe altamente improbabile Enrico Papi non verrà allontanato dal reality show, ecco i motivi Il portale web fanpage.it, dopo aver escluso l'ipotesi che il conduttore possa essere allontanato dall'isola dei famosi, ha anche svelato i presunti motivi Di fatti il sito di informazione ha rivelato che il suo allentamento sarebbe improbabile per ragioni contrattuali ed economiche Contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi, per la rete Tuttavia fanpage.it ha anche fatto notare che quel famoso gesto di prendere la busta con il nome dell'eliminato dalle mani di Ilari Blasi avrebbe comunque fatto storcere il naso un po' a tutti Per tale ragione il portale ha rivelato di essere venuto a sapere che gli autori avrebbero Per tale ragione il nostro corso di prendere lo somnero Per tale ragione il nostro corso di prendere la busta con il nome dell'eliminato either Grazie a tutti. Grazie a tutti.